Sarà la festa della Madonna del Popolo, il cuore del Family Happening 2021, un'unica data per l'appuntamento con il Pontificale del Vescovo, domani in Cattedrale alle 18.30, perché in questi tempi difficili è importante riunirsi attorno al centro della fede, elemento che è sempre stato fondante per gli organizzatori della manifestazione. Quest'anno il Family Happening verrà concentrato in un unico gesto. Il titolo è un nuovo inizio, perché crediamo che ci siano le possibilità anche per cambiare qualcosa nella nostra struttura originaria del Family, che già si è modificata nel tempo, e questo unico gesto sarà la messa del Pontificale con Vescovo lo stesso giorno dell'8 settembre, cioè domani, alle ore 18.30 nella Cattedrale di Verona. L'idea nasce quest'anno veramente dal cuore per affidare il Family Happening alla Beata Vergine Maria, che vogliamo ci accompagni nelle prossime edizioni del Family, e ci sembrava una bellissima immagine anche per la riproposizione del Family Happening, a partire da una riflessione di preghiera assieme al nostro Vescovo e assieme a tutte le famiglie che vorranno partecipare. Perché questa scelta di un unico appuntamento quest'anno? Ecco, è evidente che la natura del contesto, del periodo Covid, ha sicuramente segnato anche noi, ma abbiamo deciso nel rispetto delle famiglie, soprattutto per rispettare la loro libertà, da cui vengono anche tutti i nostri volontari, noi abbiamo volontari che vanno dai 200 ai 250 volontari ogni anno, appunto nel rispetto della loro libertà volevamo quest'anno cercare di limitare al massimo le possibilità di assembramento.